Eccoci a questo nostro primo incontro sul messale romano. Il messale è per noi una grande risorsa pastorale, per quale ragione? Innanzitutto perché se ci pensiamo bene l'occasione principale che noi abbiamo per incontrarci con le nostre comunità, sia quelle più vicine che quelle più lontane, è proprio la celebrazione dell'Eucarestia. Domenicale innanzitutto per i tanti che pur non partecipando a nessuna delle attività parrocchiali, però sono fedeli frequentatori della celebrazione dominicale, ma anche per quelli che neppure partecipano alla celebrazione dominicale, eppure quando c'è un'occasione particolare di un funerale, l'occasione di un matrimonio, l'occasione di un battesimo, partecipano alla liturgia. Capite che quindi è per noi la liturgia l'occasione principe dell'incontro con le nostre comunità cristiane. Quindi noi ci occuperemo di questo strumento pastorale di primaria importanza che è il messale. E collegato al messale poi vedremo, c'è tutto il libro del lezionario, l'evangeliario, la preghiera dei fedeli, i canti e così via. Questo è il primo strumento di cui noi ci serviremo. Il secondo strumento, che è già presente nel messale stesso, ma lo metto in evidenza, è la introduzione, o come più esattamente dovremmo dire, l'ordinamento generale del messale romano. Siamo arrivati ormai a una terza edizione. Nel messale è presente ancora la seconda, la terza edizione è possibile trovarla, questa è un'edizione del messaggero di Padova, è possibile trovarla come libretto a parte. Sostanzialmente però, anche se ci vogliamo servire di quella che è presente nel messale, le differenze non sono certo sostanziali. Un altro strumento di cui ci serviremo, anch'esso presente non nel messale, ma nel primo volume dei lezionari, è l'ordinamento generale del lezionario romano. Ecco, anche questo è un'edizione a parte sempre della messaggero di Padova, è possibile trovarlo anche nel primo volume del lezionario. Sono testi fondamentali che ci illumineranno su come interpretare il messale. Suggerisco anche due semplici ma efficaci strumenti di approfondimento. Il primo è un libro di Cesare Giraudo, Stupore eucaristico, della Vaticana e un secondo, sempre di Giraudo e sempre della Vaticana, Ascolta Israele, Ascolteci o Signore, sulla liturgia della parola. Il primo invece è un po' sulla messa interpretata come occasione di esperienza del mistero cristiano. Perché dicevo dobbiamo imparare a usare il messale e gli altri libri liturgici? Per una ragione molto semplice, che a differenza del passato nel quale veniva indicato al sacerdote esattamente, direi proprio in maniera puntualissima, che cose doveva fare o non fare, ed era il ritus servandus che apriva il messale di Pio V, il Vaticano II ha voluto offrirci con il lezionario, il messale e così via, offrirci uno strumento pastorale perché si realizzi qualcosa nella comunità. Lo vedremo che la liturgia non è soltanto un atto di culto ma è qualcosa che fa innanzitutto il Signore per noi. E io devo rendermene conto. Per rendermene conto devo interpretare in maniera efficace il rito liturgico. Facciamo l'esempio della sinfonia. In fondo qual è la differenza tra un grande direttore d'orchestra e un direttore di scarso valore? Che sanno interpretare in modi diversi lo stesso spartito, la stessa opera musicale. Potrà esserci un bravo direttore d'orchestra che in maniera efficace interpreta lo spartito musicale facendo vivere agli ascoltatori un'esperienza bella, importante, gratificante. All'opposto potrebbe esserci un fedele esecutore del testo che non sa interpretarlo e che non fa nascere emozioni e sensazioni importanti nei suoi ascoltatori. Noi dobbiamo diventare esperti del messale per poter far vivere ai nostri fratelli un'esperienza autentica, importante, gratificante, piena di spirito di Dio che aiuti davvero una vita cristiana autentica ed efficace. Quindi impariamo a interpretare il rito liturgico. Il nostro scopo è proprio questo perché le nostre comunità possano gioire dell'eucaristia che celebrano, possono davvero dire abbiamo visto il Signore e ci ha cambiato il cuore, ci ha toccato il cuore, non siamo più quelli di prima. Perché queste cose sono necessarie? Vedete noi veniamo da una tradizione, qui passo a mostrarvi alcune diapositive di un testo del 1927 di liturgia, noi veniamo da un'idea di liturgia di questo tipo. Che cos'era liturgia? Diceva questo testo del 27. In fondo ogni popolo cerca Dio, compie degli atti di culto a Dio, lo ringrazia, lo loda, gli chiede perdono e lo fa come può, come sa. Questo è il culto in senso generale. La Chiesa Cattolica non ha soltanto il culto, ma il suo culto è abilitato attraverso sacerdoti che hanno questo incarico specifico da parte della Chiesa e secondo le regole che il Signore stesso ci ha dato. Quindi la liturgia che cos'è prima del concilio? È semplicemente l'atto di culto che la Chiesa attraverso i suoi legittimi ministri, i sacerdoti, i vescovi e presbiteri, compie verso Dio nel modo in cui Dio stesso ci ha chiesto di fare. Questa è la liturgia, l'atto di culto della Chiesa. La Chiesa attraverso i preti loda, ringrazia, chiede perdono, questo è l'atto di culto che si chiama liturgia, perché è fatto come Dio vuole, come lui stesso ci ha indicato attraverso i ministri che lui stesso è incaricato di fare questo. Questa era l'idea di liturgia, un atto di culto, cioè un qualcosa che noi attraverso la via di grazia che il Signore ci ha aperto noi presentiamo al Signore, è in salita. Nel 47 esce un documento che è il frutto di un cammino che la Chiesa aveva fatto in quegli anni precedenti. La Mediator Dei, Pio XII, un grande riformatore della liturgia, che cosa dice? Dice sì, è vero che la liturgia è un atto di culto, ma è anche qualcosa di più, perché Dio attraverso Gesù si rende presente. Il grande liturgo della liturgia è Gesù Cristo. Chi agisce ed è presente nella liturgia è innanzitutto Cristo. E quindi la liturgia non è soltanto un atto di culto, certo, ma anche qualcosa che Dio fa attraverso Cristo per noi, è qualcosa che Dio compie attraverso Cristo in favore dell'umanità per la salvezza dell'umanità. Riporta unità cioè tra il dono di grazia, che possiamo anche dire sacramento, e l'atto di culto che fino ad allora era l'unico elemento evidenziato della liturgia. Sacramento e atto di culto si rimettono insieme con la Mediator Dei. Mediator Dei che così ci permette di recuperare la liturgia come azione di Cristo, unito alla Chiesa, perché il Padre ci salva attraverso Gesù Cristo e la Chiesa risponde a questo dono di grazia offrendo se stessa a Dio nell'atto di culto. Noi eravamo abituati a un'altra dimensione, forse i più grandi ricorderanno che non era strano prima del concilio fare la comunione prima della messa e poi partecipare a una delle tante messe presenti nelle nostre Chiese come momento di ringraziamento. Persino nei monasteri talvolta si faceva così prima del concilio, si faceva la comunione, poi si assisteva alla messa come ringraziamento prolungato di quel sacramento che si era ricevuto al di fuori della celebrazione liturgica. Sacramento e liturgia erano separati. Ecco, già la Mediator Dei comincia a dire no, rimettiamoli insieme. Con quale limite? Quello di pensare che il sacerdozio vero e proprio attraverso il quale il Signore opera per la salvezza della Chiesa e trasmette al Padre il nostro grazie, la nostra supplica, fosse opera esclusiva dei preti. Tanto che si descrive il sacerdozio dei preti come quello autentico, fatto di riti e quello in senso un po' così quasi figurato, interiore dei laici. I laici sono con il cuore e con la vita ad offrire se stessi a Dio ma l'offerta vera e propria la fa solo il sacerdote. Questo è il limite del Vaticano II, scusate, della Mediator Dei. Qual è la ragione di questo cambiamento così importante? Come possiamo vedere nella diapositiva successiva, era successo questo nel frattempo, era successo che è cambiata l'idea di rivelazione. La rivelazione con il Vaticano II acquista una nuova dimensione. Prima del Vaticano II, e siamo nel 1870, l'ultimo documento sulla rivelazione del Vaticano I, la Dei Filius, la rivelazione veniva definita come un Dio che rivela alla comunità, alla Chiesa attraverso le scritture, i dogmi e la morale. Dio che cosa fa nelle scritture? Ci comunica le verità da credere e la vita da condurne. Il Vaticano II fa un passo avanti invece nella Dei Verbum. Sono passati 95 anni e le cose sono maturate in un'altra direzione, non escludendo la prima ovviamente. Certo che la Bibbia è il luogo dove Dio rivela la sua volontà e i suoi dogmi. La morale e i dogmi, certo che sono presenti nella Bibbia, ma c'è qualcosa di più, di molto più grande, perché Dio rivela un se stesso che è il se stesso del mistero. Cioè Dio, dice testualmente la Dei Verbum, rivela se stesso e il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della natura divina. E questa è la cosa nuova e interessante. Recuperando una tradizione molto antica della Chiesa, quindi non è una novità assoluta, recuperando la teologia del primo millennio, il Vaticano II riconosce che nella scrittura c'è innanzitutto Dio che si rivela nelle sue intenzioni più profonde ed è il desiderio di salvare tutti gli uomini per mezzo di Cristo ciò che si rivela innanzitutto nella scrittura. E allora questo permetterà poi successivamente, intanto, già nelle Dei Verbum, di scoprire che Dio vuole trattare gli uomini come amici, si li ammette e li invita alla comunione con sé, con sé. Non semplicemente gli dice cosa devono fare, non fare, credere o non credere, ma li vuole accanto a sé, li vuole come amici, li vuole come familiari, vuole legarsi lui personalmente all'umanità. E tutto questo lo fa in eventi e parole. Questa volontà di Dio non si rivela per dogmi ma per fatti e parole. Questa è la grande novità. Dio si rivela attraverso la storia della salvezza. Dio rivela le sue intenzioni attraverso quelle parole e quei gesti che vengono narrati dalle sante scritture. Ecco perché allora la Sacro Santo un concilium potrà dire, per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. Ecco la prima grande sottolineatura. Dio, Cristo è presente nella chiesa, soprattutto quando celebra i divini misteri. È presente nella messa, nella persona del ministro, ma è presente anche nelle specie eucaristiche, specialmente in modo preeminente, è presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza, è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, già che è lui che parla quando nella chiesa si leggono le sante scritture. È presente quando la chiesa prega e lode a lui che ha promesso, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Effettivamente, per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio gloria perfetta, il culto, e gli uomini vengono santificati, azione di Cristo di salvezza, opus trinitatis, Cristo associa sempre a sé la chiesa. Non lo fa da solo, lo fa con la chiesa. Ormai il suo corpo, inseparabilmente unito a lui, la liturgia è un atto di Cristo unito alla chiesa, nel momento in cui ci dona la grazia, nel momento in cui accoglie l'atto di culto e lo rivolge al Padre. Giustamente perciò, la liturgia, ed ecco c'è la definizione di liturgia del Vaticano II, è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, unico mediatore, pontefice, che fa da ponte. In essa, nella liturgia, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. In essa, il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo che è la chiesa, è azione sacra per eccellenza e nessun'altra azione della chiesa ne è uguale all'efficacia, allo stesso titolo e allo stesso grado. Quindi ci troviamo di fronte, ecco, a poter dire che la liturgia è contemporaneamente storia di salvezza e atto di culto, azione di Cristo per salvare gli uomini e risposta degli uomini nella chiesa per rendere grazie a Dio. La storia di salvezza è per gesti e parole. Nella liturgia le gesti e le parole diventano i riti e le preghiere. Attraverso i riti e le preghiere si compie nella storia di oggi, per mezzo della liturgia, la stessa storia di salvezza che ha caratterizzato la vita di Gesù e l'azione di Dio lungo la storia di Israele e di tutta l'umanità. E la liturgia nella sua dimensione di atto di culto ha bisogno di una partecipazione attiva della comunità che non solo interiormente ma attraverso l'azione liturgica partecipa all'atto di culto come risposta all'azione di Dio di salvezza, l'azione della Trinità che ci salva e alla quale la chiesa con tutta se stessa risponde attraverso l'actuosa partecipazio, la partecipazione attiva. E allora capiamo bene perché per esempio San Leone Magno può dire ciò che fu visibile del nostro Redentore passò nei sacramenti. Quello che Gesù ha fatto lungo la storia dell'umanità, lungo la storia di Israele e della sua comunità continua nella liturgia. Tenete conto che per Leone Magno i sacramenti non sono i sette sacramenti, l'idea della sacramentalità nel suo periodo è ancora più ampia, più diffusa, potremmo dire davvero la liturgia. Nella liturgia si continua l'azione di Cristo, quell'azione che lui duemila anni fa ha compiuto in Palestina, oggi la Chiesa la vive, la sperimenta, la riceve e risponde attraverso la liturgia. O Sant'Ambrogio che dice tu ti sei mostrato faccia a faccia a Cristo, io ti trovo nei tuoi sacramenti, io ti trovo lì, a te Cristo. O ancora se andiamo a un altro grande padre della Chiesa che è Gregorio Magno, quanto crediamo già avvenuto storicamente speriamo che si adempia nel mistero che è Cristo in noi. Potremmo dire con un'altra espressione che ciò che nella vita di Cristo fu evento nella storia del cristiano è liturgia. Noi non eravamo presenti duemila anni fa, quando Gesù guariva, salvava, ha redento l'umanità nel mistero della croce, ma noi quegli stessi avvenimenti, quelle stesse azioni di Cristo le riceviamo nella liturgia. Ecco perché la bellezza liturgica è innanzitutto legata al fatto che le nostre parole, i nostri gesti facciano trasparire l'azione di Cristo. Una liturgia è bella innanzitutto quando chi vi partecipa riconosce in essa l'azione di Cristo, quando veramente possiamo dire ho visto il Signore che mi salvava, perché ciò che nella vita di Cristo fu l'evento ed è salvezza nella vita del cristiano è liturgia e cioè esperienza di salvezza. Dall'altra parte occorre la partecipazione della comunità e allora se andiamo a dare un'occhiata al concilio e proviamo a vedere come il concilio nella Sacro Santum Concilium definisce la partecipazione della comunità e cioè l'atto di culto, ci accorgeremo che ci sono tantissime caratteristiche. Qui ne vedete elencate alcune, in giallo trovate quelle legate alla consapevolezza, center, consce, conscia eccetera. In rosso trovate una partecipazione facile, in viola la partecipazione pia e così via. Ma ce n'è una che è sempre presente in ogni espressione della Sacro Santum Concilium dove si parla di partecipazione della comunità all'atto di culto, sempre voi trovate l'espressione actuosa, attiva. Cosa vuol dire attiva? Vuol dire forse che dobbiamo fare cose strane? No, no, no. Dobbiamo imparare a celebrare il rito. Noi siamo abituati a tenere ben distinti i contenuti dalla forma e cioè la cosa importante ci verrebbe voglia di dire è che i cristiani capiscano. E allora noi moltiplichiamo le parole, trasformiamo gli altari in luoghi dove mettere striscioni, avvisi, belle frasi, ma non è questo il senso dell'actuosa partecipazio. Actuosa partecipazio consiste nell'imparare a celebrare il rito perché proprio agendo il rito, vivendo il rito, io vivo un'esperienza che mi aiuta ad essere coinvolto con tutta la mia persona nel dono di grazia che il Signore mi fa. Noi dobbiamo superare la distinzione tra contenuto e forma. Il contenuto non viene dato soltanto dalle parole ma anche dalle modalità con cui noi celebriamo. Se volete l'esempio più caro, più semplice, lo possiamo descrivere proprio nel nostro volto. Quando a qualcuno voi domandate perché lo vedete strano, scuro in volto, dice oh cosa c'hai? Niente. Voi subito pensate dentro di voi ma non mi ha detto la verità perché il volto parla più delle parole. Ecco, la liturgia, perdonate questo esempio un po' così semplice, però la liturgia ha bisogno di questo, ha bisogno di essere celebrati in una modalità che proprio nella forma faccia trasparire l'azione di Cristo e la risposta della comunità. Non sono solo le parole che aprono il cuore ma sono i gesti, sono i volti, sono i suoni, sono i profumi, sono i colori, tutto quello che costituisce la liturgia e che vedremo proprio studiando il messale ha una ricchezza infinita. È davvero uno spartito musicale dentro il quale possiamo sbizzarrirci mantenendo una fedeltà assoluta allo spartito, sbizzarrirci per renderla esperienza viva del dono di grazia e dell'atto di culto della Chiesa. Noi dobbiamo rifuggire l'idea che il problema sia solo della partecipazione consapevole. Ecco, vedete questo disegno scherzoso che ci descrive un po' l'idea di cristiano che noi talvolta abbiamo. Una grande testa, poco cuore, niente braccia. Tanto che abbiamo inventato l'espressione credenti e non praticanti, cioè senza braccia. Oppure abbiamo detto semplicemente che quello che proviamo dentro di noi non conta. No, no, conta, conta, perché le nostre scelte molte volte sono determinate da atteggiamenti emotivi, da sensazioni e sono tutte cose molto importanti. Certo, senza escludere la consapevolezza, l'esperienza intellettuale sarebbe bella, ma non legandoci solo a quella. Il cristiano non è solo testa, ma è anche cuore, braccia, esperienza di udito, esperienza di odorato, esperienza di sguardo e così via. La liturgia, quindi, da semplice atto di culto viene ricompresa dal Vaticano II come storia di salvezza, come mistero, come opus trinitatis e, nello stesso tempo, come atto di culto di tutto il popolo, che è un popolo sacerdotale. E quindi la liturgia è opera del Cristo totale, capo e membra. Nella realtà le cose non vanno sempre così. Vedete, io adesso ve lo dico in maniera un po' scherzosa, a Fano c'è un detto che suona così, vedete, qui vedete un uomo e una donna, un uomo cerca di andare dietro a una donna, gli fa una proposta d'amore, ma lei non ne vuol sapere. A Fano c'è il detto di far l'amor alla vincenza, lui el fa, Elia encepensa, tradotto in italiano, ecco, lui è innamorato pazzo, ma lei non se ne accorge neppure. Ecco, la nostra liturgia non può essere così. Se liturgia fosse soltanto un'azione di Dio, certo, noi non avremmo bisogno di elaborare l'atto di culto. Noi basta che facciamo bene bene le nostre cose e tutto funziona bene. No, no. Io ho bisogno di vivere un'esperienza che mi coinvolga. Mi devo rendere conto che qui il Signore mi sta facendo una dichiarazione d'amore, mi propone l'unione con Lui, mi propone di dare la mia vita per Lui, come Lui l'ha data per noi per primo. L'amore e la vincenza nella liturgia non funzionano. Dobbiamo fare in modo che le nostre comunità si coinvolgano, si sentano partecipi di questo dono di grazia, di questo opus trinitatis, di questo atto di Cristo che ci salva. Quando il cieco nato si vide aprire gli occhi dal Signore, dentro di sé le emozioni, le decisioni furono tante. Ecco, noi dobbiamo pensare davvero alla liturgia come un'esperienza nella quale l'uomo vive intensamente il proprio essere salvato ed elabora nella consapevolezza del proprio cuore e della propria vita la risposta dell'atto di culto. E questo è il nostro problema. Qui ho messo a confronto la Mediator Dei con la Sacro Santum Concilium. La Mediator Dei si limitava a dire che tra il cristiano comune e il mistero della liturgia bastava un intimo contatto, il Vaticano II parla di partecipazione attiva. Per la Mediator Dei, per l'integrità del sacrificio bastava che il prete facesse la comunione, voi sapete che nella rito di Pio V fino al Vaticano II la comunione non era un elemento costitutivo, la comunione dei fedeli, dico, non era un elemento costitutivo della liturgia, se ne poteva far tranquillamente a meno. Invece il Vaticano II dice no, i cristiani devono entrare dentro il rito comprendendone bene il significato dell'Eucaristia attraverso i riti e le preghiere. Io entro dentro la liturgia e dentro la liturgia capisco, devo esserci dentro, non soltanto spettatore esterno. Tanto è vero che poi al numero 48 la Sacro Santum Concilium dirà una cosa molto molto importante. Dice che la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come strani o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere partecipano all'azione sacra consapevolmente, piamente, attivamente e così via. Vedete allora che sono i riti e le preghiere lo spazio dentro il quale io ricevo, sperimento l'azione di Dio e nello stesso tempo elevo al Padre l'atto di culto. Si tratta cioè di tornare alla liturgia come fonte della nostra conoscenza ed esperienza di Dio. I libri servono, ma serve soprattutto riflettere sul mistero dell'Eucaristia e sulla vita cristiana che lì io sperimento, ricevo e dalla quale vengo ispirato a rispondere con tutta la mia vita. Che cosa, come utilizzeremo noi il messale, come lo studieremo? Lo studieremo attraverso il metodo mistagogico. In maniera molto semplice dico si tratta di entrare nella liturgia per vivere un'esperienza che ci aiuti a capire il mistero. E qui porto l'esempio molto semplice, il Catechismo della Chiesa Cattolica mi può aiutare a capire il senso del matrimonio, per esempio, ma una celebrazione liturgica del matrimonio mi fa fare un'esperienza che mi tocca nel profondo del cuore, che mi aiuta a percepire gli stessi contenuti del Catechismo, mi permette di toccarli, di sperimentarli con una totalità di sentimenti, di emozioni, oltre che di riflessioni, molto più coinvolgente e importante. Si tratta cioè di parlare dell'Alexo Randi come fonte primaria del mio capire il mistero di Dio, di entrarci dentro. Che cos'è questo Alexo Randi? Che cosa mi può aiutare a fare queste esperienze? Innanzitutto la parola, una parola che nella celebrazione è efficace, è un'azione di Dio. Poi i testi liturgici, che sono quello spazio dentro il quale io esprimo la mia nostra gratitudine a Dio come una decisione di vita, come qualcosa che mi vuol coinvolgere e che mi permette facilmente di accogliere e di consegnare me stesso a Dio, accogliere il dono di grazia e rispondere con il mio atto di culto. L'Alexo Randi è il rito che mi aiuta a capire dentro le cose il mistero di Dio, celebrando il rito, toccando, guardando, muovendomi con tutto quello che facciamo. L'anno liturgico, con il tempo, che è uno spazio di esperienza di Dio. E così la musica, l'arte, la preghiera sotto forma di canto, sono tutte esperienze che ci aiutano ad arrivare alla comprensione del rito e quindi dentro il rito la possibilità di capire e di sperimentare che cosa il Signore ha fatto e fa per noi. Potremmo dire, in altre parole semplicemente, potremmo dire che ogni libro liturgico, incluse le premesse teologiche e pastorali, è scritto nel Pontificale, sia per i presbiteri oggetto di attento studio individuale ma anche in fraterna comunione presbiterale. Di lì impareranno l'arte di evangelizzare e celebrare, che è condizione indispensabile per una fruttuosa ed efficace partecipazione ai divini misteri. Quindi già il Pontificale delle ordinazioni dei presbiteri ci dice tornate ai libri liturgici perché lì scoprirete la ricchezza della vostra fede, della vostra esperienza cristiana. Per concludere, dobbiamo entrare nella liturgia come esperienza dell'azione di Dio alla quale noi possiamo dare una risposta. Io leggo, per concludere, il testo della colletta della festa di San Matteo. O Padre dice, tu ci fai rivivere nell'Eucarestia l'esperienza gioiosa di San Matteo che accolse come ospite il nostro Salvatore. Ecco che cos'è la liturgia. Tu Padre fai rivivere oggi a noi quello che è successo duemila anni fa a Matteo, quello che nella vita di Cristo fu evento nella storia del cristiano è liturgia. Entreremo nel prossimo incontro dentro il messale perché potendo riconoscere in essa la dinamica celebrativa con la quale poter gestire, interpretare questo rito, possiamo far vivere noi stessi e le nostre comunità l'esperienza dell'incontro con Dio che ci salva e aprire la nostra vita alla risposta, all'atto di culto, al dono di noi stessi a Dio. Perché possiamo realizzare, come dice Paolo ai Romani, il nostro atto di culto spirituale, consegnandone stessi al mistero di Dio per la salvezza nostra e del mondo.